E' andata alla grande. Dopo il passaparola, Facebook, Instagram e i social, il cuore della gente, ce l'abbiamo fatta. Sembrava una sfida impossibile da vincere ed invece, grazie all'intraprendenza di due imprenditori, ma soprattutto al grande cuore degli eretini e alla forza dei social, l'obiettivo è stato raggiunto donare un ventilatore polmonare all'ospedale San Donato di Arezzo. Abbiamo fatto un'operazione di crowdfunding tramite il sito GoFoundMe e abbiamo fatto tanta pubblicità su Facebook, grazie al potere dei social ci sono state più di 300 donazioni, abbiamo raggiunto la cifra di 11.000 euro. Il ventilatore polmonare è stato così consegnato direttamente nelle mani del dottor Marco Ferri, direttore della rianimazione. Grazie a quanto raccolto è stato poi comprato anche un ecografo polmonare, e una sonda wireless. Abbiamo visto aziende che hanno donato anche 20.000 euro e abbiamo visto che l'Unione in questo periodo fa la forza. Noi ci siamo resi conto della forza di tutti gli operatori sanitari all'ospedale San Donato di quello che stanno facendo e è una retorica dirlo, però è proprio nel momento del bisogno che ti rendi conto veramente che bisogna investire più sui servizi alla salute del cittadino. Per fortuna, grazie alle associazioni che fanno volontariato, questo ha permesso di avere tanti strumenti all'ospedale San Donato di Arezzo da tantissime aziende, non solo da noi. Vorrei raccontare un aneddoto perché ci tengo tanto. Sono stato contattato un giorno su Facebook da una persona di 81 anni, giuro, e mi ha chiesto che voleva fare la donazione. Però era andato in banca e la banca gli ha detto guarda non si può fare con un bonifico, solo con carta, perché il sito accetta solo le carte. Quindi mi ha chiamato, ho fatto il versamento con la mia e gli dico guarda quanto bisogna donare? 500 euro. A quel giorno sono rimasto veramente alliebito perché sembrava una storia di Natale, ma era tutto vero. Grazie.